La questione del giudice di pace, cosa non l'ha convinto dalla risposta dell'amministrazione? Innanzitutto siamo sempre a parlare di questo argomento, lo dico con un po' di rammarico, perché purtroppo già altre volte abbiamo presentato delle interrogazioni sul punto nel tentativo di sbloccare definitivamente, risolvere delle problematiche che nell'ufficio del giudice di pace afferiscono a struttura e personale. Non mi ha convinto il fatto che la risposta era molto generica, addirittura a malincuore, devo dire quasi evasiva rispetto a tempi certi che invece avevamo chiesto. A questo punto noi siamo veramente un po' intristiti dal fatto che l'amministrazione non abbia ancora con chiarezza detto a noi, ma comunque alla città, in che modo vuole risolvere questo problema e quindi affrontare definitivamente la questione. Anche perché, come abbiamo anche evidenziato in sede di trattazione e dell'interrogazione, il presidente del Tribunale di Trapani, che comunque ha giudizione sulla vita dell'ufficio del giudice di pace di Alcamo, se dovesse notare particolari discrasie che in questo momento ci sono, si rischia addirittura la chiusura dell'ufficio, capirà, con un pregiudizio importante per la città di Alcamo. Vorremmo che questo non accadesse mai, ancora di più, con questa amministrazione che si ritiene essere nuova, legale e soprattutto con la volontà di incidere per la città. Voi come opposizione avete qualche proposta? Le nostre proposte sono sempre state quelle di affrontare le problematiche. Rispetto al personale si era già individuata in passato una soluzione transattiva con il vecchio segretario che poi è stata superata da questa giunta attraverso altre proposte che non sono state accettate. Benissimo, sul punto si potrebbe tranquillamente ritornare a quella soluzione transattiva che potrebbe far evitare dei contenziosi dai lavoratori contro il comune di Alcamo. Riguardo la struttura, invece, evidentemente vanno fatte delle scelte importanti. Sicuramente, in tempi però assolutamente brevi, dovrebbe essere, secondo noi, data la possibilità all'ufficio del giudice di pace di essere sostanzialmente in un locale probabilmente più comodo e congruo alle attività di giustizia che si fanno. Si può mantenere sempre in via Verga, ma sicuramente con accorgimenti molto più importanti rispetto alla locazione e anche alla sicurezza.